salve gente my perspective qui potete fare questo esperimento voi stessi basta avere una finestra piana basta che sia notte che vi troviate a casa e che abbiate il vetro lucido e che abbiate una tenda giusto che copra parte della finestra piana da una parte se mettete una lampada dietro la tendina continuerete a vedere la lampada dall'altra parte la vedrete nella posizione opposta che si riflette proprio dall'altra parte e alla stessa distanza la luce non passa tra la sua tendina giusto viene riflessa attraverso il vetro ma la percepite nella posizione corretta anche se cambiate la posizione avanti o indietro il riflesso rimane nello stesso punto ora anche se ruoto tutto questo sistema in un'altra posizione il principio rimane lo stesso noi continueremo a vedere il riflesso ad esempio questo signore vedrà il riflesso della luce che punta verso di lui giusto e questo è come vediamo la luna ed il riflesso della luna se spostate la vostra posizione del riflesso si muoverà sempre verso di voi non importa dove andate a posizionarvi come è stata scattata questa fotografia la luce indica sempre la luce sull'oceano sull'acqua che punta sempre verso di voi quindi il principio è lo stesso giusto ora se osservate all'esperimento che avete fatto a casa ed applicate quello che avete visto nel mondo reale accadono le stesse cose ve l'ho già detto che l'oceano è piano se cambiamo la luce con la luna giusto se allontaniamo la luna a 400 mila chilometri là dietro e voi rimanete su un corpo curvo di acqua tutto il sistema cade a pezzi non funziona noi vedremo il riflesso della luce dall'altra parte della palla non lo vedrete di fronte a voi come invece lo vediamo giusto tutto quanto sarebbe differente quindi questa fotografia sarebbe impossibile se vi trovaste su un corpo d'acqua curvo con la luna che si trova lontana 400 mila chilometri nello spazio questo è l'artista william turner ora osserviamo questo quadro guardate come ha dipinto le nuvole davanti e dietro la luna in una notte dove ha creato questo come vedeva con i propri occhi osservate come si riflette la luce dietro l'imbarcazione in lontananza e davanti davanti alla barca il che significa che la luna è una luce locale la luna è la luce come una lampada non è un pezzo di roccia è una luce ed è una luce vicina perché se osservate questa luce nelle nuvole la vedete in un'area locale con le sue nuvole sul corpo dell'acqua vi fa vedere la luce in questo modo l'oceano è piatto i vostri occhi lo mostrano che non c'è alcuna curvatura sull'oceano e william turner aveva capito questo ora se vi dico che la luce del sole rimbalza dalla luna e rimbalza da questa costruzione e questo è il modo in cui viene illuminato il palazzo e tutto quanto attorno vedete che è nero e buio mi direte che non c'è alcun senso i palazzi vengono illuminati i palazzi hanno una fonte di luce deve esserci una luce o qualcosa per illuminare quei palazzi per vederli nel modo in cui li vediamo e lo stesso è per la luna la luna è una luce non un pezzo di roccia a 400 mila chilometri nello spazio è impossibile non abbiamo mai guardato questo il riflesso sull'oceano a migliaia di chilometri è piatto e la luna è una luce locale facciamo così prendete la vostra videocamera questo è uno zoom digitale e non andiamo a parlare delle lenti dello zoom no no potete vedere la struttura della luna abbastanza chiaramente giusto come potete zoomare sulla luna se si trova a 400 mila chilometri di distanza giusto non è possibile entrate in un negozio di macchine fotografiche dite voglio delle lenti in grado di riprendere a 20 mila chilometri vi riderebbero in faccia e allora direte ma voglio riprendere la luna e la luna si trova a 400 mila chilometri più del doppio della distanza quindi perché ridete di me capisco ma non funziona in questo modo invece funziona in questo modo il telescopio ha una portata limitata le lenti della vostra fotocamera hanno uno zoom limitato di lente focale non potete vedere e zoomare a 400 mila chilometri di distanza pensate che state zoomando su due palazzi a 400 mila chilometri di distanza osservate i crateri sulla luna agli impatti dei crateri ma che hanno sempre la stessa profondità i crateri sono sempre larghi più larghi di quanto sono profondi ma non c'è profondità sui crateri della luna giusta ora quel cratere nella parte bassa taiko giusto il nome che è stato dato dall'astronomo danese taiko brahe è di 86 chilometri è grande come la città di new york la città di new york può contenere quel cratere quindi se zoomate sulla luna volete dirmi che riuscite a zoomare a 400 mila chilometri sulla città di new york non è possibile la proporzione di quel cratere e della luna non funzionano la luna è probabilmente un quarto della grandezza della terra quindi non si tratta di una sola cosa ma di un sacco di altre cose e se le mettiamo tutte quante insieme ci dicono che ci hanno mentito nulla di più semplice di questo sul vero mondo quindi cercate di non soffrire troppo riprendete un piccolo uccello alcune nuvole e quando andate a zoomare andate a zoomare lo spazio profondo proprio sulla luna con i vostri obiettivi e l'effetto che vedete della luna durante il giorno significa che state vedendo oltre la luna è la cupola è il firmamento è un corpo solido di acqua questo è il motivo per cui vediamo la luna bianca lo stesso come succede per le nuvole c'è qualcosa dietro alla luna e questo è perché la vediamo quindi se osservate alle lenti focali della fotocamera le usate come un telescopio quando zoomate sulle cose ad una certa distanza mettendo il teleobiettivo sulla vostra fotocamera incrementa la focale delle vostre lenti all'orizzonte rimane nella stessa posizione aumentando la focale il che significa che potete zoomare che tutto si porta più vicino e lo stesso è per la luna e per le nuvole se la luna fosse a 400 mila chilometri di distanza quando andate a zoomare su una nave ed andate a zoomare avanti indietro non avrebbe alcun effetto sulla luna perché la luna sarebbe troppo lontana tanto che non sareste in grado di portarla dentro alla focale riuscite a capire quando zoomate alle cose diventano instabili pertanto immaginate se zoomate ad una luna che si trova a 400 mila chilometri avreste dei leggeri movimenti e la luna vibrerebbe continuamente durante la ripresa com'è possibile il fatto è che se zoomate sulla luna diventerebbe instabile se fosse lontana 400 mila chilometri sarebbe veramente instabile non come qui e questa immagine qui la nasa ci mostra delle immagini come questa ma c'è un problema giusto la grandezza della terra è un problema giusto questo è un grosso problema per fare questa fotografia per loro avrebbero dovuto allunare sul lato della luna e sapete perché perché è la stessa parte che la luna guarda la terra per voi per vedere la luna che sorge ed il lem sulla luna dovreste trovarvi sul fianco della luna guardate questo non è guardate l'orizzonte gente è stato tagliato è stato troncato questo è finto la fotografia non è reale dovete solo osservare potete vedere che non è reale come può trovarsi là la terra giusto voglio dire se fosse sulla luna dalla stessa parte che guarda la terra giusto per voi per riprendere l'orizzonte di lem e la terra sull'orizzonte dovreste trovarvi nella parte dietro della luna sul fianco della luna perché siete sulla stessa parte che guarda la terra giusto quindi ci sono un sacco di piccole cose ad esempio le fasi della luna che sono costanti giusto si muovono da destra a sinistra ogni tot di giorni le fasi lunari costanti giusto riflettete sulla luce sull'ombre pensate alla luce e alle ombre è semplice quindi quello che ci dicono che ci insegnano a scuola giusto è perché la luna orbita la terra ed è per questo che vediamo la luce ma se vi trovate sull'equatore giusto la luce non si deve muovere da sinistra a destra ma si dovrebbe muovere dall'alto in basso ed ogni sei mesi le fasi si dovrebbero cambiare perché si troverebbero dalla parte opposta adesso le fasi della luna si dovrebbero scambiare allora come fanno ad essere costanti le fasi della luna ora andiamo a mettere in movimento la terra e facciamola girare a 110 mila chilometri orari attorno al sole il che significa che il ciclo della luna non si muove a cerchio attorno alla terra ma farà un occhiello un loop più rapido quando si trova davanti al movimento attorno al sole è più lento quando si trova dietro perché la distanza sarà sempre la stessa fra la luna e la terra pertanto le fasi non dovrebbero essere costanti cosa succede che vi mostrano il loro modello giusto sulla luce e sull'ombra e queste persone voglio mostrarvi una immagine di quando battono il 5 questo è un falso si tratta di un falso profitto portare la scienza in questo modo è fuorviante fanno i miracoli ma è impossibile queste persone inducono tutti quanti in inganno aprite semplicemente i vostri occhi osservate alle ombre pensate a come funziona la luce e vedrete in modo differente queste persone sono persone ingannevoli sono falsi profeti quindi spero che questo vi lasci con qualcosa a cui pensare perché la bibbia dice che nei giorni perduti ci saranno dei falsi profeti con segni di miracoli e meraviglie e stiamo proprio vedendo che stanno succedendo vi stanno facendo vedere la scienza e le meraviglie e siete in grado di riconoscere spero che questo vi faccia pensare il mio proposito di fare video è che sono un artista e vediamo le cose in modo diverso forse perché vediamo le cose in modo diverso e forse perché siamo allenati a vedere le cose in modo diverso ma potete allenare voi stessi per osservare se vedete in modo diverso divertente ma è un problema questo e potete condividere tutto ciò ma il punto è che il mondo dove viviamo è una falsa illusione e non potete vivere nella falsa illusione di dove siamo adesso io non voglio essere ingannato voglio vivere nel mondo vero che è stato creato dal creatore quindi grazie di aver guardato e condividete questo video